Di tutti i ricoveri per trauma, il 23% è per l'infortunio domestico. Il tasso medio di accesso in pronto soccorso ospedaliero per l'infortunio domestico è infatti di circa 3.000 pazienti l'anno ogni 100.000 abitanti, con alcuni gruppi età sesso specifici che risultano maggiormente a rischio. I bambini sotto i 5 anni di età, più i maschi che le femmine, con 8.000 casi ogni 100.000. Gli anziani a partire da 65 anni, più le donne che gli uomini, con 5.600 casi ogni 100.000, con tassi progressivamente maggiori al crescere dell'età. Seguono le donne in età lavorativa, 18-64 anni, impegnate in attività di lavoro domestico, e infine gli adulti, più uomini che donne, tra i 15 e i 49 anni. Sul totale dei casi di infortunio domestico analizzati, i luoghi con le maggiori frequenze di infortunio della casa sono rappresentati dal soggiorno camera da letto, seguiti da vari altri luoghi, come garage, parcheggio e dalla cucina.